Una libreria aprirà finalmente nel cuore del centro storico all'Aquila, Piazza Duomo. Il 16 marzo arriverà in città il secondo punto vendita della Mondadori, di proprietà di Roberto Maccarrone. I locali sono quelli dell'ex Nardis, nell'angolo di Via Indipendenza, accoglieranno su due piani eventi, libri e anche vinili. Nasciamo esattamente 35 anni fa via 20 Settembre, raccontato Roberto Maccarrone. Apriamo questo nuovo store con Mondadori in centro città, ma dando anche un taglio differente e più ricercato. Libri, presentazioni, ma anche una ricca sezione dedicata al venile. Resterà aperto comunque il punto vendita nel piazzale di Troni, con le attività portate avanti finora con successo. La libreria Mondadori è sempre attiva con eventi importanti in città, l'ultimo è quello che ha visto all'Aquila Roberto Vecchioni. In centro la libreria Mondadori non c'è mai stata, è un bel traguardo questo per l'imprenditore aquilano Roberto Maccarrone.